Un'alternativa positiva, un'altra scelta per gli italiani e la costruiremo con poche parole. Poche parole, lavoro, onestà, serietà, regole, civismo sono le parole di queste nostre piazze, sono le parole di una grande riscossa democratica. Avanti allora, guardate che le cose cambiano, affrontiamo con fiducia questo grande appuntamento elettorale, andiamo a vincere, viva il lavoro, viva la Costituzione, viva l'Italia di domani. Grazie a tutti per la vostra forza. Grazie a tutti. Grazie a tutti.